Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, ti presento la focaccia! Attenzione ragazzi, oggi vi faccio il cacciatore del pescatore, il mio panino da barca, da pesca. Petto di pollo marinato con curry, sale, succo di limone e una bella tostata in padella e poi piano piano. Frittatina con basilico, menta e pecorino insieme a fave e piselli saltati da crudo, coscetela piano piano. Poi petto di pollo spilacciato, confettura di cipolla, insalatina croccante e la frittata che si deve davvero squagliare. Fette di pomodoro cuor di bue con poca acqua e poi lui, eccolo, salame cacciatore italiano, il protagonista, la parte saporita, il bucchè aromatico, pepato, tagliato a fette sottili, irresistibile, ecco. Tanto, tanto, qualche fetta di limone per l'acidità e ancora basilico e menta se vi è rimasto pressate e poi ditemi, come mai mi piace andare a pescare? Spabam! Perché mangio questo. Il cacciatore del pescatore. Ciao ora. Ciao.